Marche unica regione in arancione, lo sfogo del presidente Acquaroli, cambio di colore nonostante la curva in discesa, danni all'economia. SOS dalle attività ricettive, tra locali quasi deserti, il salasso in bolletta, il punto con federalberghi. Porta sfondata, sede del partito, Fratelli d'Italia, fermo nel mirino dei vandali alla vigilia del giorno delle foibe, il messaggio della leader Meloni. In vista della conferenza delle regioni, le Marche dicono no alla direttiva europea per le concessioni demaniali delle spiagge. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. Dunque in primo piano parliamo di questo cambio di colorazione che è scattato da lunedì per la regione Marche, unica regione d'Italia ad avere un passaggio in arancione. Si sfoga il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, che parla sì di curva in discesa, ma i primi effetti di questo cambio è sicuramente un danno all'economia. Vediamo il servizio di Giulia Boschi. Un mese fa, nel periodo di Natale, avevo detto noi andremo arancioni, perché avevamo un trend di ricoveri giornalieri, in terapia intensiva e nelle aree mediche che era un trend sostenuto. Oggi abbiamo visto che invece il trend si è invertito e siamo arrivati a arancione un mese e mezzo dopo. Il passaggio in zona arancione delle Marche continua a non piacere al presidente della regione, Francesco Acquaroli, che torna a sottolineare una discrepanza tra la situazione reale e le misure adottate. Il cambio di tendenza è un cambio che non deve dare il messaggio che tutto è finito e sciogliete le righe, però sicuramente c'è un messaggio positivo che va dato alla cittadinanza, che va dato alla popolazione, anche perché il lockdown di fatto che si sta registrando rischia di avere delle ripercussioni economiche importantissime. Di fatto, perché è il Green Pass ottenuto con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid, il cambio di colore non comporta nessun cambiamento. Ma preoccupato per la situazione economica, Acquaroli ha scritto una lettera al presidente della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, affinché convochi una conferenza per affrontare subito questo tema. Tante sottolinea sono le attività che stanno chiudendo. Tanti settori che chiedono a noi di intervenire, ma noi non abbiamo più gli strumenti per poter intervenire in maniera significativa. Per questo io vorrei che si parlasse anche di questi aspetti, perché continuare a dare un messaggio comporta una conseguenza e quella conseguenza poi è pagata dalle attività, è pagata dai piccoli e medi imprenditori. Tornando sulla situazione ospedaliera, il presidente ha poi sottolineato come in questa fase della pandemia i positivi senza sintomi ricoverati per altre patologie siano percentualmente un numero importante che incide sul totale dei ricoverati negli ospedali e che rischia di determinare il passaggio da zona gialla ad arancione. Ma intanto, proprio sulla situazione della sanità marchigiana, più in generale, chiedono risposte ai sindacati. A venti giorni dalla scadenza di presentazione dei progetti per accedere ai primi 182 milioni del PNRR per gli investimenti nella sanità, in una nota stampa le sigle sindacali sottolineano come i vertici regionali non abbiano ancora reso oggetto di confronto il quadro generale degli assetti dell'assistenza sanitaria territoriale, nel quale nestare le singole scelte e i singoli investimenti finanziati e sostenuti dal PNRR. E andiamo a vedere meglio la situazione, l'evoluzione dell'emergenza pandemica nella nostra regione, come facciamo ogni giorno. Purtroppo in bollettino ci sono altre nove vittime nelle ultime 24 ore, ma facciamo il punto nel prossimo servizio. Vediamo. Focolai all'interno di case di riposo, ne abbiamo una particolare amatelica e un'altra a pollenza. Ancora focolai di Covid nell'RSA delle Marche, i positivi sottolinea l'assessore della sanità della regione Filippo Saltamartini, erano tutti vaccinate e attualmente sono asintomatici. Ho sollecitato gli organi dell'Azur a dare l'assistenza massima, non solo con Iusca ma anche con infermieri e osse perché il fenomeno possa essere circoscritto. Intanto nelle Marche continua a calare l'incidenza su 100.000 abitanti, oggi a 1.513. 3.152 sono i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, il 38,4% degli 8.219 tamponi eseguiti nel percorso diagnostico di screening. La provincia con più positivi Ancona con 876 nuovi contagi, seguita la macerata a 715. Ma la regione guarda con attenzione al diffondersi della variante Omicron 2. Si sta registrando l'estensione di Omicron 2 in un paio di focolai, uno proveniente da Civitanova Marche e un altro che si è registrato nell'Anconetano. In ogni caso su questo la scienza non si è ancora pronunciata oppure si avrà altri effetti. In ogni caso io sono cautamente ottimista nel senso che c'è un allargamento della vaccinazione e ciò non di meno non possiamo neppure, diciamo così, rimettere le cautele necessarie. Di pari passo con i contagi diminuiscono anche i ricoveri negli ospedali marchigiani. 11 pazienti meno in 24 ore per un totale di 366 degenti. Di questi 50 sono nelle terapie intensive. Le Marche da ieri in zona arancione per lo sforamento delle tre soglie previste, secondo i dati forniti dalla regione, sarebbero di nuovo sotto uno dei tre parametri che hanno determinato il passaggio di fascia. Nell'ultima giornata si è registrato un ulteriore calo di pazienti di terapia intensiva, un valore che fa diminuire la saturazione Covid in questo tipo di reparto al 19,5%, alla soglia del 20%, rispetto ai 256 posti disponibili. Ma nonostante il miglioramento dei parametri restano alti i decessi, altri 9 oggi per un totale di vittime da inizio pandemia che si porta a 3.482. Ed ora la cronaca, andiamo a fermo, porta sfondata, sede messa totalmente a soccuadro, vandali in azione la notte scorsa nella sede del partito di Fratelli d'Italia, appunto a fermo e poi l'uscita, il messaggio della leader Meloni che parla di ennesimo attacco. Vediamo meglio. Hanno scastinato la porta d'ingresso e poi hanno messo a soccuadro la sede. Queste sono le istantanee dopo il raid notturno all'interno della sede di fermo di Fratelli d'Italia. Mentre le forze dell'ordine lavorano per individuare i responsabili, arriva il messaggio della leader del partito, Giorgia Meloni, che su Facebook scrive «Sono entrati sfondando la porta con un piede di porco e hanno completamente devastato la sede, ma di questa violenza, di questo odio, non ne sentirete parlare dal mainstream. Spero che tutte le forze politiche condannino l'ennesimo attacco nei confronti di una sede di Fratelli d'Italia». Scrivono il consigliere del gruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Andrea Puzzu, e il coordinatore provinciale, Andrea Balestrieri. Un atto di inciviltà, di teppismo e squadrismo verso chi non accetta alcuna forma di dialogo motivato soltanto dall'odio politico, contrario ai principi della democrazia. Questo attacco, scrivono ancora, è avvenuto proprio a pochi giorni dalla commemorazione del giorno del ricordo delle foibe che abbiamo organizzato insieme ai ragazzi di Gioventù Nazionale per il 12 febbraio, prevista proprio all'interno della sede che è stata devastata. E infatti non ci sembra un caso che siano stati strappati anche i manifesti dell'iniziativa. Un'intimidazione che certamente non ci fermerà, concludono. «Abbiamo piena fiducia nel lavoro di forze dell'Ordine e della Magistratura, che sono già al lavoro», dice l'onorevole Emanuele Prisco, commissario regionale di Fratelli d'Italia nelle Marche. Ancora per quanto riguarda la cronaca, sulla carta era un bar, ma nei fatti, insomma, si trattava di un nightclub nel mirino degli agenti della costura di Ancona, insieme ai colleghi del commissariato di Senigallia, un locale a Montemarciano. Gli agenti hanno effettuato un controllo in borghese, dunque scoprendo la vera natura del locale con ragazze vestite in abiti succinti e la possibilità di stare con loro nel privé dopo il pagamento di un sovrapprezzo. Dunque è stata disposta la chiusura per 20 giorni e contanto di maximulta per i titolari. Ed ora parliamo di un momento davvero molto complicato per le attività ricettive. Parliamo di alberghi che in questo momento sono quasi deserti e in questi giorni i titolari stanno ricevendo insomma delle fatture salatissime per quanto riguarda le utenze. Vediamo meglio. Solo la bolletta di dicembre ha avuto un aumento di 1700 euro in più, la bolletta di dicembre, da 1400 a 3100, quindi pensi un po' a quello che sono i costi. Non bastassero restrizioni e chiusure, il caro bollette si abbatte anche sulle attività già fortemente penalizzate dalla pandemia. La mannaia dei costi fissi che salgono arriva nel momento più delicato. Le spese crescono, ma quei pochi ospiti presenti sono figli di contratti già chiusi da tempo. Noi abbiamo contratti che vengono fatti precedentemente con tour operator, con agenzie di viaggio, con aziende che mandano i loro operai a lavorare o i loro addetti a lavorare. E quindi logicamente a questi non possiamo poi andare a caricare un ulteriore costo. Poi c'è la bella stagione che si affaccia timidamente, complice la speranza che il virus faccia meno paura. L'estate è un tempo per l'ottimismo, la primavera un'incognita. Stanno arrivando prenotazioni o richieste di prenotazioni per il periodo estivo e questo ci fa molto piacere. Siamo ancora molto indietro per Pasqua. Il passo successivo, a libertà possibile riconquistata, è riaprire le porte all'estero. Oggi vaccino guarigione e tampone negativo per entrare in Italia. Quello che ci piacerebbe è che ritornino gli stranieri. Nel ritorno a viaggi e vacanze però tutto torna alle spese. Quelle delle famiglie, che arriveranno da un inverno di aumenti, quelle degli imprenditori, con una conseguenza probabile. Probabilmente un piccolo aumento ci sarà. E ancora sul caro bollette, Anci Marche, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, aderisce all'iniziativa nazionale Luci Spenti nei Comuni. Anci Marche ha già chiesto a tutti i colleghi sindaci di scegliere un monumento particolarmente significativo del proprio comune e procedere a spegnere le luci che lo illuminano proprio giovedì 10 febbraio alle 20. Lo ha detto la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, che è presidente di Anci Marche, rimarcando la giusta presa di posizione di Anci e del presidente nazionale, De Caro contro il caro bollette i rischi che esso avrà anche sui bilanci comunali e sull'erogazione dei servizi alle comunità. L'Anci stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro su una spesa complessiva annua per l'energia elettrica che oscilla tra il miliardo e mezzo e un miliardo e otto, quindi davvero costi molto importanti anche per gli enti locali. Ed ora parliamo di lavoro con gli aggiornamenti riguardo la vertenza Caterpillar di Iesi con 270 lavoratori tra diretti e indotto, ancora con il fiato sospeso per capire di fatto se avranno ancora un posto di lavoro finito il mese di febbraio. Intanto è stato convocato un nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per il prossimo 15 febbraio. Vediamo meglio. C'è questo forte interesse da parte di diverse imprese per rilevare e continuare le attività nel sito di Iesi. Io voglio pensare che a questo punto ci siano tutte le condizioni per dare un proseguo di attività a quel sito industriale. Continuano le visite delle aziende potenzialmente interessate ad acquisire il sito Caterpillar di Iesi a rischio chiusura dopo l'annuncio dell'attuale proprietà di voler cessare l'attività nello stabilimento in cui lavorano 260 persone. L'ultima si è verificata questa mattina e si guarda dunque con grande aspettativa il 14 febbraio, data di scadenza del termine posto dall'azienda per manifestazioni di interesse da parte di eventuali investitori. Il 15 febbraio poi è convocato un nuovo tavolo al Mise questa volta in presenza a Roma per discutere del futuro del sito e dei lavoratori ma grande attesa c'è anche per l'arrivo allo stabilimento del ministro del lavoro Andrea Orlando il prossimo venerdì 11 febbraio. Io sicuramente sarò di fronte ai cancelli della Caterpillar ugualmente per rincontrare il ministro ovviamente per vedere un po' gli sviluppi di tutta questa vicenda. Voglio immaginare che sia anche una proroga per quel che riguarda i licenziamenti e le scadenze che a suo tempo Caterpillar aveva dato anche perché se è vero che ci sono come vero degli interessi forti per rilevare l'attività non è pensabile che il tutto si possa concludere entro il 24 febbraio cioè da qui a pochissimi giorni. Ma sul territorio chiesino quella della Caterpillar non è l'unica vertenza aperta. Continuano gli incontri sindacali anche per i lavoratori dell'Aliomatic. Dopo l'annuncio da parte dell'azienda di voler reinserire i lavoratori della sede chiesina in quelle di Macerata e Pesaro ora si sta trattando per definire le diverse situazioni. Per la gran parte dei lavoratori di fatto effettivamente dopo quell'incontro si è evinto che non cambierebbe di fatto nulla perché sono quelli che operano sui territori, fanno le consegne e quant'altro quindi al di là della sede di partenza il resto della loro operatività rimane la stessa. Può cambiare a livello di disagio per alcuni di questi pendenti circa 13 mi pare che dovranno spostarsi dalla sede di Iese a quelle di Pesaro, di Macerati alcuni addirittura in quella di Perugia e di Arezzo. Su questo c'è stata la disponibilità dell'azienda a portare avanti sulla nostra richiesta degli incontri mirati sindacali proprio per cercare di lenire nel miglior modo possibile i disagi di questi lavoratori. Ed ora parliamo della sicurezza digitale e delle insidie di internet. Oggi la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo dunque per la sicurezza digitale l'incontro ad Ancona al liceo Rinaldini il servizio di Andrea Fiano. Vediamo. Tutto è nato dalle prime aggressioni che mio figlio ebbe da un gruppo di bulli nel 2019. Hanno continuato nel corso degli anni fino a dicembre dell'anno scorso. Potevo scegliere due strade la prima di farmi giustizia da sola e ho la seconda di mettere da parte tutto questo rancore e di cercare di fare qualcosa per la città per sensibilizzarla sia per gli artefici e sia per le vittime. Dalla sua esperienza personale mamma Patrizia ha cominciato una battaglia di sensibilizzazione al fenomeno della violenza tra ragazzi e adolescenti. Un'opera che attraverso il MOIG il Movimento Italiano dei Genitori è entrato nelle scuole in occasione delle giornate contro il bullismo, il cyberbullismo e il Safer Internet Day. Le tecnologie da ostacolo alla socialità sono diventate uno strumento fondamentale della socialità perché dal momento in cui i ragazzi sono stati costretti in casa hanno trovato delle strategie di socializzazione solo attraverso il canale digitale. In questo senso educare all'utilizzo è meglio che proibire ed è per questo che noi informiamo i genitori sulle nuove tecnologie in modo tale che possano educare i figli all'utilizzo di quelle tecnologie. Mamma Patrizia non si è fermata alla scuola il prossimo 27 di febbraio e ha organizzato il primo incontro per la costituzione del gruppo City Angels anche a Dancona mentre il caravan del MOIG continua ad offrire punti di ascolto utilizzati nella maggior parte dei casi più dai carnifici che dalle vittime di bullismo. Ascoltiamo prima di tutto quindi molto spesso le dirò non sono tanto le vittime che si palesano quanto i bulli. La pandemia ha aumentato il tempo della connessione giovanile del mondo vissuto dietro lo schermo dello smartphone. La rete è diventata la gran cassa di insulti ed emarginazioni social di violenze e vessazioni in digitale. Il bullismo non ha un suo riconoscimento nel codice pinale ma è un insieme di reati per cui anche gli over 14 minorenni possono essere imputabili. La scuola è la prima frontiera. Al liceo classico Rinaldini di Ancona è attivo lo sportello psicologico di ascolto a disposizione degli studenti e la dirigente scolastica va orgogliosa di non aver avuto finora casi nel suo istituto sfumando però la motivazione in una sorta di classismo. Fortunatamente non abbiamo questi problemi perché la nostra utenza è un'utenza in un certo qual modo proveniente da ceti e da famiglie che hanno altissima attenzione per i propri figli. Quindi non abbiamo avuto fortunatamente fenomeni riconducibili al bullismo o al cyberbullismo. Ed ora parliamo della grana delle spiagge con la direttiva Bolkestein. Le regioni hanno idee diverse la regione Marche ha le idee molto chiare dice no appunto a questa direttiva europea che va a incidere proprio sulle concessioni demaniali per i titolari degli stabilimenti balneari sulle nostre spiagge. Domani c'è un incontro importante la conferenza delle regioni. Vediamo. No alla Bolkestein è netta la posizione delle Marche tra le regioni d'Italia in vista della conferenza delle regioni prevista per il 9 febbraio in merito alla direttiva europea che mette mano sulle concessioni demaniali delle spiagge ai titolari di stabilimenti e chalet. C'è chi come nel caso delle Marche chiede che vi sia un contrasto forte e radicale dei confronti della Bolkestein che si apra in particolare una vertenza a livello europeo tesa ad accertare come anche in Italia si possa applicare la stessa operazione che ha trovato attuazione in Portogallo e in Spagna dove di fatto la Bolkestein non opera nella stessa misura in cui qualcuno vorrebbe operasse delle Marche. Detto questo noi sappiamo anche che ci sono regioni e associazioni che invece già immaginano la necessità di lavorare sulle gare e in questo caos normativo che si è prodotto ci sono già segnalazioni che riguardano comuni non nelle Marche per il momento che stanno cominciando a indire le gare proprio per paura di essere magari accusato di danno erariale. Le ultime sentenze del Consiglio di Stato hanno imposto di arrivare a legare per concedere i tratti di litorale entro la fine del 2023 ma tra l'altro come dice Castelli mancano ancora alcuni passaggi previsti proprio dalla direttiva. L'articolo 12 della direttiva stabilisce che si applica questo dispositivo europeo solo nel caso in cui ci sia l'accertata scarsità della risorsa la scarsità della risorsa in questo caso delle nostre coste da sfruttare è conseguenza della mappatura quindi come si può indire una gara quando ancora non sappiamo esattamente se la risorsa è scarsa questo è un tema che può sembrare come dire cervellotico però determina il destino veramente di centinaia e centinaia di famiglie che hanno come sappiamo investito per decenni negli stabilimenti che si vedrebbero polverizzati i diritti. Ed ora parliamo di agricoltura con investimenti riguardo le imprese agricole per rendere ancora più moderne le loro attività c'è un fondo da 30 milioni di euro all'interno del programma di sviluppo rurale vediamo meglio costruire o ristrutturare macchinari impianti attrezzature per rendere più moderne le aziende agricole della regione a disposizione i fondi della sottomisura 4.1 del bando del programma di sviluppo rurale della regione Marche che verrà presentato agli agricoltori il prossimo 10 febbraio alle 17 a Cagli in provincia di Pesaro Urbino negli spazi dell'azienda agricola Nucci la scadenza per presentare le domande è fissata per il prossimo 19 maggio la misura con un fondo da 30 milioni di euro nel concreto prevede che le aziende possano allestire nuove costruzioni serre puntare su impianti di lavorazione del prodotto della terra per dare nuovo slancio alle aziende agricole ma anche investire sulla sostenibilità energetica con impianti fotovoltaici biogas e geotermia sono previsti fondi anche per investimenti utili a creare punti d'acqua in aree montane come abbeveratoi fontanili microinvasi per rendere possibile l'attività della pastorizia specie in alta quota una campagna più attenta sostenibile e moderna in linea anche con gli obiettivi dell'Unione Europea per una politica agricola anche più digitale tra gli investimenti sono previsti anche quelli per apparecchiature e strumentazioni informatiche e questo era il nostro ultimo servizio io per il momento mi fermo qui vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul sito www.tvmarke.it dalla app di ETV tutte le nostre video news e ovviamente seguiteci anche sui social grazie di essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti